Ciao, sono Maurizio Perón, scultore italiano. Sono qua al momento in Svezia a partecipare alla costruzione del famoso Ice Hotel, l'albergo in ghiaccio e neve più famoso del mondo. Questa sarà la mia suite che sto costruendo, ho disegnato e progettato insieme alla mia collega Mario Vendonck, una stylist olandese. Normalmente lavoro un po' di tutti i materiali, il legno, la pietra, il marmo, il granito, appunto la neve, il ghiaccio e in questo caso sto utilizzando una Garmin Virgo 360 perché in queste suite che stiamo facendo non è tanto l'elemento scultoreo che è protagonista ma è l'ambiente che è un protagonista e quindi il device migliore per far capire allo spettatore com'è l'ambiente è una macchina fotografica che riprende a 360. La sto utilizzando, sto documentando con un timelapse tutto il processo del lavoro, a breve potrete vederlo sia sul mio sito e sia sul mio sito e sul mio sito e sul mio sito. Grazie a tutti.